A riposto domani tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale, dopo la rocambolesca votazione del conto consuntivo 2013 dove stavano per emergere sensibilità trasversali nelle due coalizioni e anche nella stessa amministrazione caragliano, domani l'unica cosa certa saranno le interrogazioni. Per il resto sembrano destinati a rimanere a Mollo, a Bagnomaria, almeno fino a settembre, sia i due piani di lottizzazione che riguardano la frazione di Carrubba che i due regolamenti, anche se su quello delle sponsorizzazioni l'opposizione filodursiana avrebbe pronti degli emendamenti sui quali si sta cercando di gettare un ponte con il gruppo caragliano, in attesa sempre che in aula tornino i giorni caldi del bilancio di previsione.